Nel rapporto veniva indicata tutta la normativa europea come veniva trasposta negli Stati membri e dalle procedure di infrazione che sono state aperte negli ultimi anni si è visto che la normativa ambientale è una delle principali normative che non viene recepita in maniera adeguata negli Stati membri. Consideriamo anche che la normativa ambientale è estremamente importante anche per fermare le eco-mafie perché le mafie fanno grossissimi affari proprio sul riciclaggio illecito dei rifiuti e quindi tutta la normativa europea sarebbe importantissimo che venisse recepita in maniera adeguata dagli Stati membri.